una buona giornata a tutti voi e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 10 maggio 2023 vediamo subito il santo del giorno per poi dare un'occhiata ai giornali il resto del carlino e il Corriere Adriatico come sempre nelle pagine locali oggi vediamo nella grafica che si festeggia San Cataldo di Racao un santo irlandese particolarmente però venerato a Taranto dove si trova la sua tomba questa è situata nella ricchissima cappella molto molto preziosa dal punto di vista artistico che è chiamata da tutti il cappellone visse nel VII secolo San Cataldo finì a Taranto di ritorno da un viaggio che aveva fatto in Palestina in Terra Santa lì fu eletto vescovo e fu il secondo vescovo della città probabilmente però è il più venerato tra tutti quelli che hanno governato la chiesa Tarantina questo è San Cataldo vediamo ora le previsioni del tempo la giornata si evolverà all'insegna della instabilità con piogge e rovesci sparsi sta arrivando qualche ondata di maltempo fenomeni più intensi e persistenti attesi proprio sulle alte marche e probabilmente anche nell'entroterra le temperature sono un po' diminuite rispetto a ieri la minima è 14 gradi la massima non supererà i 16 gradi i venti spireranno da sud est sulle coste e da est e sud est nell'entroterra il mare è poco mosso non sono venti ancora molto molto tesi e quindi le onde non sono alte questa è un po' la situazione del tempo le condizioni meteorologiche per qualche giorno saranno più brutte rispetto ai giorni scorsi ma poi tornerà il bel tempo apriamo oggi per primo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo un articolo che riguarda i contenziosi che affronta l'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini che si sentono un po' lesi nei loro diritti e quindi ricorrono al giudice il comune ha una settantina di contenziosi all'anno questa è un po' la media ed è stato accantonato per i risarcimenti un fondo rischi di un milione ma secondo l'opposizione in modo particolare la Lega questo fondo è insufficiente perché ci sono cause che potrebbero così comportare risarcimenti che superano addirittura il milione di euro ricordiamo il logo Serafini uno delle vicende che si è protratta per diversi anni e che alla fine ha costretto l'amministrazione comunale a pagare un risarcimento di 800 mila euro quindi una cifra molto molto sostanziosa e adesso ci sono in ballo anche altre cause che potrebbero determinare così delle scosse nel bilancio dell'amministrazione comunale vedi quello che accade nella palestra di Cucurano legata alla nuova scuola di Cucurano Carrara scuola elementare e poi c'è anche un'avvertenza per quanto riguarda uno dei laghi vicini al metauro che è stato coinvolto poi anche dalle opere compensative la Lega quindi chiede di rimpinguare questo fondo per coprire eventuali rischi comunque il sindaco dice che non c'è nulla da temere in questo momento perché i comuni legali sono sicuri che le cause che sono in itinere saranno tutte favorevoli all'amministrazione comunale il sindaco dice non rischiamo di perdere e lo vediamo qui in questa dichiarazione a fondo pagina vediamo un articolo di cronaca un articolo che viene che viene desunto dal dal tribunale tradisci mio fratello e la minaccia di morte è il cognato di una donna il cui marito è in carcere e in carcere per fatti di droga ebbene mentre il marito ovviamente non può uscire dalla sua cella secondo il cognato la moglie lo tradirebbe e quindi il cognato ha agito con intimidazioni ma anche con dispetti nei confronti appunto della cognata stessa la quale alla fine si è stancata e lo ha denunciato quest'ultimo il cognato avrebbe fatto anche dei dispetti addirittura avrebbe distrutto una auto della donna un piccolo veicolo elettrico di cilindrato a 50 distrutta a colpi di mazzate finestrini addirittura frantumati portellone di velto pneumatici tagliati dicevo che la donna è ricorsa al tribunale il giudice ha riconosciuto l'uomo colpevole della minaccia condannandolo a 1000 euro di multa per il risarcimento dei danni e di 1200 euro per le spese processuali il giudice poi ha trasmesso gli atti al pm per il danneggiamento e poi per riformulare il teatro il reato scusate in maniera più appropriata secondo le accuse e le verità che sarebbero emesse nel corso del dibattimento e poi qua abbiamo un articolo di spalla che però il resto del carlino tratta più diffusamente lo pone in apertura che riguarda quello studente della scuola olivetti che nel momento più nero della pandemia si rifiutò di stare in classe con la mascherina e per questo si era legato al banco della aula si incatenò al banco ora finisce a processo perturbativa del servizio pubblico assieme ad un suo mentore un costituzionalista che lo aveva incoraggiato ad assumere questo atteggiamento è un ragazzo di 18 anni studente all'istituto olivetti di fano che nel maggio del 2021 era stato prelevato dalle forze dove vediamo qui l'articolo a cui faccio riferimento dalle forze dell'ordine e portato in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio nel confronti del quale anche per questo è stato presentato un ricorso insomma un tso per un ragazzo che vuole non vuole uscire dall'aula mi sembra è stato oggetto appunto di contestazione il giovane avrebbe creato tensione in classe dicendo a docenti e compagni che la norma che impone l'utilizzo della mascherina era incostituzionale e per questo era stato incoraggiato da questa persona più anziana di lui un sedicente costituzionalista che aveva appunto lo aveva incoraggiato ad assumere questo atteggiamento e vediamo qui l'articolo di apertura che riserva a questo fatto il resto del carlino studente no masche si incatenò al banco a processo per interruzione di servizio la vicenda era diventata un caso nazionale dato che il era stato sottoposto a tso un provvedimento che aveva suscitato delle diverse reazioni al banco degli imputati anche l'amberto roberti appunto il sedicente costituzionalista che lo consigliava e quindi anche lui è finito davanti al giudice c'è anche una dichiarazione della preside dell'istituto la preside augello che depone in aula una storia che ci ha addolorato ha detto l'insegnante ma non avevamo scelto certo è che condannare oppure così insomma porre in giudizio far sì che si ponga in giudizio la cuola non ha non ha colpe un proprio allunno certo dispiace anche per il contesto in cui avviene questo fatto veniamo alle altre notizie giriamo la pagina sul corriere adriatico e vediamo un'iniziativa che è stata presentata ieri dall'amministrazione comunale ed è la prima volta che si svolge a fano quest'anno viene organizzata per la prima volta la giornata cittadina della educazione civica una iniziativa una manifestazione che verrà poi replicata anche nei prossimi anni una manifestazione che ha tenuto subito una grande adesione di studenti quindi da parte delle scuole ma anche di tante tante associazioni si può dire che non c'è associazione cittadina che non abbia aderito a questa iniziativa un'iniziativa che si svolgerà sabato prossimo nella area antistante la memo la mediateca montanari nei giardini di piazza ammiani dove ci saranno tante tante iniziative addirittura ci saranno anche dei concerti infatti la manifestazione si concluderà con un concerto dell'orchestra di fiati della sinfonica rossini una quarantina le realtà espresse dal terzo settore nell'ambito della cultura dell'ambientalismo dello sport che interigeranno con gli studenti di tutte le scuole secondarie in merito a questa attività ebbene lo scopo ovviamente è quello della diffusione dell'educazione civica sappiamo quanto di educazione civica ci sia bisogno in questi tempi quando sia da parte giovanile ma non solo sia da parte degli adulti insomma qualche volta non c'è quel gran rispetto quel grande amore per la città quel grande amore per il prossimo che dovrebbe limitare ogni intemperanza e ogni provocazione e poi un'altra iniziativa sempre presentata nella giornata di ieri al pari centro che è il punto che è stato organizzato dall'assessorato alle pari opportunità per la difesa dei diritti e per dare un servizio a tutte le persone che hanno bisogno di consigli che hanno così un qualcosa da evidenziare e anche da rivendicare è stato così presentato un nuovo sportello ce ne sono otto già inattivi questo è il nono si tratta di un sportello gratuito per le consulenze ai lavoratori domestici in modo particolare alle lavoratrici domestiche perché poi questo settore è in modo particolare frequentato dalle donne sarà aperto il 20 maggio dalla cgl al pari centro nona iniziativa del genere è stato presentato dall'assessora alle pari opportunità sarà cucchiarini con due sindacaliste da una parte vediamo vania sciumbata che è la responsabile appunto della nostra zona e cinzia massetti passiamo ancora a fano per quanto riguarda la valmetauro ma si parla di un'iniziativa che si estende sia dalla costa verso l'entroterra ovvero si parla della ferrovia la ferrovia è tornata in auge in questi ultimi tempi ma lo è sempre stato dobbiamo dire grazie anche ad un convegno che c'è stato ad urbino ad una dichiarazione importante che è stata fatta da luigi cantalamessa direttore generale della fondazione ferrovie dello stato il quale ha lanciato nella città ducale è un monito un appello molto significativo insomma ha detto sarebbe riduttivo ripristinare la ferrovia fano rubino come ferrovia turistica andrebbe riattivata a tutti gli effetti come trasporto pubblico locale un trasporto pubblico che in modo particolare la città di urbino rivendica per efficientare i collegamenti con la costa ma anche la costa per quanto riguarda le esclusioni verso l'entroterra e questa ferrovia potrebbe essere l'inizio di un collegamento che in futuro potrebbe riattivarsi anche con la pergola fabriano roma e via dicendo comunque staremo a vedere intanto Fossombrone si attrezza per la tappa del Giro d'Italia che è in programma sabato prossimo Corso Garibaldi è pronto per il Giro d'Italia e il corso è stato completamente riqualificato un sistema sistemato a tempo di record grazie al contributo dei privati ebbene il taglio del nastro è stato fatto con una bella festa con tanto di banda diretta dal maestro Marco Frattini insieme al sindaco di Fossombrone c'era anche il vescovo Trasarti poi anche altri amministratori e titolari delle ditte che hanno sponsorizzato l'intervento quindi anche Fossombrone si fa più bella per questo evento che attirerà sugli occhi della città metaurense un po' l'attenzione di tutto il mondo ciclistico perché poi queste riprese vengono trasmesse in tutto il mondo. Vediamo anche questo articolo di spalla sulla pagina della Val Metauro si parla sempre di Fano ed è un incidente automobilistico che si è verificato ieri intorno alle 10.30 all'incrocio tra le vie della Repubblica e del ponte a San Lazzaro a Fano lì c'è un incrocio semaforico due mezzi sono venuti a collisione c'è stato anche una ferita si tratta poi di una donna incinta per fortuna non è in pericolo di vita però lì c'è un semaforo quindi una delle due non ha osservato la segnalazione semaforica comunque i rilievi della polizia locale sono in corso. Ed ora passiamo a Pergola dove si parla di manifestazioni blooming, progetti digitali per l'ambiente sociale. La scadenza per la selezione è stata fissata al 25 luglio prossimo. L'evento sarà programmato per l'8 e il 9 settembre. Negli ultimi giorni sono state in vero comunicate le date di tre manifestazioni importanti a Pergola. L'Alter Arte, Festival Internazionale di Arte programmato per il 6, 7, 8, 9 luglio. La Festa del Vino che per la 51esima edizione ritorna con il sottotitolo Il Vino in Festa Pergola Rosso Doc e il Blooming Festival l'8 e il 9 settembre. Quello che dà materia per il titolo. L'organizzazione del Festival di arti numeriche e culture digitali è giunto alla settima edizione. Ebbene il centro storico sarà così corredato di tante installazioni, proiezioni, performance proposte in chiese, cantine. Insomma tutto il centro sarà coinvolto in questo evento dove la tecnologia, l'arte digitale la fa da padrone e suscita meraviglie. Sulla pagina di Senigallia vediamo che slitta il cantiere sulla statale a Cesano, il meteo è sfavorevole e quindi tutti i lavori sono stati rinviati nel mese di giugno. Però è stata completata, o quasi, la realizzazione della ciclabile di Marzocca. A luglio riapre anche Viale Anita Garibaldi. Ebbene la protezione civile ha emesso ieri un messaggio di allertamento meteo valido per tutta la giornata di oggi e quindi, insomma, anche per i prossimi giorni il tempo non è che sarà dei migliori e quindi i lavori sono stati procrastinati. Ma soffremiamoci un attimo a Senigallia per evidenziare anche questo secondo articolo che funge da apertura. Vocalist pestato per la sigaretta negata, condannato l'aggressore del Mamma Mia, pugno in faccia e danno permanente all'occhio. Un anno e due mesi, la vittima chiede 50.000 euro di risarcimento. Ebbene, per una inezia, per una sigaretta negata, chi si è visto negare questo piccolo omaggio ha dato un pugno, un pugno mostruoso in volto al suo interlocutore e gli ha procurato un danno al condotto lacrimale permanente. Ebbene, vedete come per delle cose stupide magari si creano danni veramente gravi. Ieri il giudice Francesca Grassi ha condannato a un anno e due mesi di reclusione, la pena è stata sospesa, all'imputato difeso dall'avvocato Alessandro Marino. Il Vocalist, che si è costituito parte civile, quello che ha subito il danno, ha chiesto appunto un risarcimento di 50.000 euro. Per ora è stata stabilita una provvisionale solo di 10.000, comunque poi si vedrà. Diamo un'occhiata anche alle pagine di Pesaro, dove si parla di ZTL. Ecco qua l'articolo, ci sono dei varchi ancora da custodire, da controllare bene con le telecamere. Ebbene, abbiamo delle dichiarazioni degli amministratori, entra nel dettaglio l'assessore Belloni, che dice che provvederà a coprire i buchi che sono rimasti. ZTL, 8 varchi non presidati, piano per le nuove spycam. Si parterà dalle vie Curie e le Passeri. È stato avviato anche un intervento per sostituire tutto il software del sistema. I primi due varchi sono proprio all'ingresso di via Curie e nel tratto terminale di via Passeri, sul lato che scende da via del Governatore verso la Biblioteca di San Giovanni. Successivamente verranno protetti altri quattro varchi, attualmente non monitorati. Sono quelli di Via del Teatro, Piazzale Lazzarini, Via Massimi e Via Toschi Mosca. Vediamo anche un altro articolo che riguarda la Fox Petroli, che demolisce quelle grandi cisterne che ora stoccano il petrolio. Tutto quanto il sistema verrà sostituito dal gas. La Fox Petroli si converte al metano verso la demolizione di alcuni silos. I vertici della società hanno relazionato ieri alla Commissione Ambiente e hanno previsto un'operazione del costo di 50 milioni di euro. È comunque stato dato via al progetto. Un progetto che cambierà il panorama proprio del territorio, perché verranno demoliti questi grandi silos che sono stati costruiti negli anni 60. Vediamo un ultimo articolo che riguarda Urbino sul Corriere Adriatico. Riceci, ricece la discarica, caso in Parlamento. Sotto esame il ruolo di Marche Multiservizi. Lo porta con una interrogazione e lo portano i deputati Borrelli e Bonelli, che appartengono ai Verdi. Chiedono un'ispezione sulla trasparenza dei metodi assunti da Marche Multiservizi. E quindi saranno i governativi a così verificare che tutto sia stato fatto secondo le regole. Questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino. Abbiamo visto l'apertura dedicata alla vicenda giudiziaria del ragazzo che si era incatenato ai banchi della propria aula. Vediamo a fondopagina invece l'articolo del cognato che aveva perseguitato la moglie del fratello mentre il fratello era in carcere. E oggi vediamo un articolo che riguarda l'ultimo saluto a Tommaso della Dora, il segretario del Partito Democratico, che è deceduto all'età di 43 anni per un improvviso e inaspettato malore. Oggi l'ultimo saluto a Tommaso della Dora. Verrà dato alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti, nel quartiere di Sant'Orso di Fano. Ovviamente ci saranno tante, tante persone. Ci saranno ovviamente i parenti, i fratelli, il papà, la mamma, ma tanti amici, i compagni di partito, i conoscenti, tutti coloro da cui scomparsa di Tommaso ha lasciato un vuoto terribile. Ieri si sono svolti gli accertamenti medici sulla salma del defunto, i cui risultati si sapranno tra circa due mesi. Tante persone alla Camera Ardente hanno fatto visita alla salma, tante persone, c'erano veramente tutti, si può dire, perché Tommaso della Dora non solo era un uomo impegnato in politica, ma lo era come educatore in campo sociale, lo era in campo sportivo. Insomma, aveva tanti, tanti amici e tanti conoscenti. Vediamo anche gli altri articoli. Lezioni di cittadinanza, studenti in cattedra. Sabato sarà la giornata di educazione civica. Questo è l'articolo che riguarda questo primo evento programmato dall'amministrazione comunale. E poi il resto del Carlino fa un ritorno sul sottopasso di Viale Cairoli. I lavori per realizzare questa nuova infrastruttura sono prossimi. L'assessore mette tutti a tacere per quelli che fanno le fate d'estate, ci porta dei danni, eccetera, ma con le ferrovie è difficile cambiare il cronoprogramma, perché poi le ferrovie hanno tanti altri lavori da realizzare e quindi se si salta uno poi magari si mette in coda e chissà quando verrà effettuato. Comunque l'investimento fatto dalle ferrovie è di 2 milioni e mezzo e non si può perdere. Lo ha detto l'assessore dei lavori pubblici Barbara Brunori. Vediamo qui anche l'articolo che riguarda la nuova iniziativa del Pari Centro e a fondo pagina invece la Fondazione Carifano che organizza un incontro per valorizzare San Pietro in Valle. Questa bellissima chiesa barocca, un unicum tra le marche, che è chiusa da tanti tanti anni con uno spreco di opportunità di carattere turistico che insomma lascia molto, molto a desiderare. Vediamo ora Frate Rosa. Frate Rosa, ebbene, abbiamo una risorsa gastronomica importante, i tacconi e le fave. I tacconi e le fave, una mostra al mercato per la fava di Frate Rosa. Domenica la prima edizione del nuovo appuntamento gastronomico legato al presidio Slow Food. Ebbene, scoprire Frate Rosa incastonato tra le colline tra la Valle del Metauro e la Valle del Cesano è una scoperta eccezionale. Bisogna farla, bisogna così assaporare i prodotti tipici del nostro territorio e vedere le bellezze ambientali. Veniamo ad Urbino, l'Ateneo aumenta le sessioni di laurea. È stata introdotta per il mese di aprile una nuova sessione dopo che l'ultima era nel mese di febbraio consentirà agli studenti di sfruttare meglio gli appelli invernali e ridurre il rischio di finire fuori corso pagando tasse che eventualmente si possono evitare. Ebbene, con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina mentre per le notizie del giorno alle ore 20.30 nel Tg di Occhio alla Notizia di Fano TV di questa sera per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci.